Detto, fatto. Potremmo fare riferimento ad una trasmissione di grande successo che le conduce con grande maestria, con tanta professionalità e con la caratteristica simpatia dei bitontini, visto che lo è al 100%. Bianca Guaccero ha presentato sabato 20 aprile il suo primo libro Il tuo cuore è come il mare in un teatro traetta pieno di gente, ma soprattutto di amici che ogni volta che ritorna a bitonto la colgono sempre a braccia aperte. Detto, fatto. Nel senso, detto, detto un giorno mi sveglio e decido di fare un libro? Non è proprio così, nel senso che ho pensato tante volte nella mia vita di scrivere, da quando avevo l'età della ragione, però non mi sentivo pronta perché quando uno è piccolino ha tante domande a cui non sa dare una risposta. Ora non è che ho trovato tutte le risposte alle domande che avevo prima, però ho cercato di rispondere in maniera più onesta possibile e è venuto fuori questo frutto, questo frutto caduto dall'albero. Senti, come mai hai deciso proprio di scrivere un libro dedicando la tua figlia, parlando con tua figlia? Perché mia figlia è la parte migliore di me, mia figlia è tutto ciò che mi ha resa migliore negli ultimi quattro anni della mia vita, che mi ha fatto venire fuori il coraggio anche di affrontare determinati aspetti della mia vita, di me stessa, perché avere un figlio ti responsabilizza a diventare, per fortuna o purtroppo se vogliamo, il punto di riferimento di qualcuno. Quindi tu non puoi, devi necessariamente crescere in fretta per cercare di non deludere le aspettative e quindi questo è stato il motivo. Allora, presenti il libro al Teatro Traetta, nella tua Bitonto, tu hai un legame non forte, è proprio completamente indissolubile con questa città, perché l'abbiamo visto anche in televisione, sei sempre molto molto legata alla tua terra. Sì, perché è tutto ciò che mi ha dato quello che sono, è tutto ciò che io sono, io arrivo da qui e tutto ciò che di buono e anche di meno buono c'è in me, arriva dalle mie origini e ognuno di noi ha la sua storia alle spalle e non bisogna mai rinegarla, perché è come se rinnegassimo noi stessi e io credo che sia stupido farlo, quindi anzi io porto avanti il mio paese, perché il mio paese merita tanto, secondo me, merita di essere portato come bandiera, perché negli ultimi anni si è molto rifiorito. Ti faccio una domanda un po' particolare, immagina una mamma che aspetta una bimba o una verrà sicuramente uno spaccato di vita di un essere umano e soprattutto quello che io cerco di dire a mia figlia, ma anche a chi poi avrà modo di leggerlo, è di non avere paura di sentirsi a volte sbagliati, di non avere paura di sentirsi fragili, di non avere paura di avere paura e che tutto questo fa parte dell'animo umano e che spesso noi, i nostri genitori ci hanno sempre detto quando succedeva qualcosa, dai non è niente, non fa niente, invece fa, nel senso che bisogna imparare i nostri, voglio insegnare, bisogna imparare dai nostri figli, ma bisogna anche insegnarglielo a non avere pudore di sentirsi diversi, di sentirsi di non farcela, di affrontare con sorriso se possibile anche gli aspetti più negativi della vita, perché esistono, non bisogna mettersi i prosciutti davanti agli occhi, perché esistono come esiste la bellezza, l'amore, esiste l'odio, la rabbia, l'insicurezza, la sicurezza, quindi io insegno a mia figlia a guardare della vita a tutti i colori, perché la vita è piena di colori, non esiste solo il rosa, esiste anche il nero e se tu più lo conosci il nero e più lo sai affrontare, altrimenti non lo affronterai mai. Grazie in bocca al lupo per il futuro. Crepi, grazie a voi. Ciao.